I giallorossi non si sono fermati. Il gruppo si è allenato al Carmelo Imbriani per via del maltempo che ha piegato un'intera provincia e non solo. Emozionante il messaggio della Curva Sud, che subito è scesa in piazza per dare una mano e mettersi a disposizione di chi ha perso tutto a causa dell'alluvione. Non sono mancati nemmeno post bianco-verdi. Dal tifo il pino è arrivata la solidarietà, così come da Caserta, attraverso uno striscione che ha colorato il pinto. Anche il Benevento Calcio ha fatto sentire la propria vicinanza alle famiglie più colpite, attraverso le parole del presidente Pallotta. Parole che arrivano dal cuore, con i giallorossi che hanno continuato a fare il proprio dovere, da veri professionisti. Seduta tecnico-tattica sul sintetico degli Imbriani, con conclusioni in porta nella parte finale. Ha continuato un lavoro a parte Marano, che a questo punto sarà out per sabato assieme a Ciciretti e Vitiello. Ricordiamo che salterà la trasferta di Matera, anche Mucciante, per squalifica. Il resto del gruppo però sarà a disposizione, anche De Falco, che è oramai recuperato dagli ultimi acciacchi. La squadra tornerà ad allenarsi domani mattina. Subito dopo ci sarà la partenza per la terra lucana.